Aria pura, panorami mozzafiato, verdi pascoli e boschi che nascondono una natura incontaminata. Un paesaggio da cartolina che un po' alla volta sta diventando uno dei luoghi di attrazione turistica più importanti sui Monti Dauni. Il lago Pescara, Biccari, sorge a oltre 700 metri di altezza sotto la cima del Monte Cornacchia, la vetta della Puglia a 1150 metri. L'amministrazione comunale sta riqualificando tutta l'area intorno al lago, grazie a 2 milioni e mezzo di euro di fondi regionali del PSR. Si tratta complessivamente di una ventina di interventi che vanno dalla realizzazione di panchine staccionate ari picnic sul lago e percorsi salute, dalla forestazione controllata con il taglio della legna pianificato per non depauperare il patrimonio boschivo, alla realizzazione di un parco avventura che sarà messo in rete con gli altri due parchi realizzati nelle vicine Pietra Monte Corvino e Motta Monte Corvino. Questo è l'intervento che dal punto di vista turistico, dal punto di vista della fruibilità, della ricettività del bosco dovrebbe essere quello più importante. Tra gli altri interventi spiccano la realizzazione del sentiero Frassati che conduce alla vetta del Monte Cornacchia e un'area per la raccolta controllata di tartufi. Il problema resta la viabilità. La strada di 4 chilometri che conduce dal paese al lago è una vera e propria mulattiera, ma presto potrebbe esserci una svolta. Abbiamo il progetto che è stato già dichiarato ammissibile da parte della Regione Puglia, abbiamo anche i soldi perché vorremmo candidare questo progetto nell'ambito dell'utilizzazione delle royalties degli idrocarburi che abbiamo preso dopo anni di battaglie qualche mese fa e quindi pare che ci siano le condizioni ideali per poter chiudere anche questo discorso.